Chi non ha un amico, un conoscente che non ha fatto un grandissimo affare in asta? Tutti quanti guardano le aste immobiliari, le aste giudiziarie come la panacea per trovare grandissimi affari, però forse dobbiamo un attimino approfondire un attimo l'argomento. Poi uno apre i giornali, guarda cosa sta succedendo in Spagna dove fanno due per tre, perciò aste telematiche dove con l'acquisto di due appartamenti te ne regalano un terzo, perciò insomma sono mondi comunque che all'apparenza sembrano molto interessanti. Comunque sicuramente il canale dell'acquisto dell'immobiliare tramite il mondo di stress è sicuramente uno dei canali preferiti soprattutto dagli investitori istituzionali opportunistici. Questo è evidente perché ci sono situazioni più complesse, situazioni dove creare valore aggiunto ma soprattutto situazioni dove acquisire grandi portafogli e dove impiegare grandi quantità di equiti. Questo avviene nel mondo non giudiziario perché poi ovviamente ad ogni singola posizione viene fatta un'asta. Perciò il problema vero dell'avvicinamento dei grandi investitori istituzionali al mondo delle aste non può avvenire ad oggi perché è troppo frazionato. Un fondo istituzionale che ha qualche miliardo di dollari da investire non può intervenire in 10.000 aste da 200.000 euro l'una. Quello è evidente, è un dispendio troppo alto. Comunque se andiamo a vedere il mondo di stress, ovvero il mondo dei non performing loans, andiamo a vedere che ci sono tre categorie di possibilità di acquisizione immobiliare. La prima, che è la stragrande maggioranza, è l'acquisizione in asta, in un'asta giudiziaria. La seconda è quella dell'assegnazione dell'immobile direttamente da parte del giudice tramite un dazio insoluto, un cesso buon bonorum, perciò un accordo sostanzialmente con il tribunale dove il credito viene soddisfatto tramite, in natura sostanzialmente, trasferendo l'immobile perciò in esenzione del patto commissorio. La terza modalità è quella della dismissione volontaria, ovvero strutture specializzate, cioè credit services specializzati in accordo con la banca e sul mandato della banca vanno dal debitore prima che intervenga l'asta e chiede se al debitore, nonché al proprietario, se vuole vendere l'immobile non tramite una procedura giudiziaria. Questo ovviamente con l'obiettivo di riuscire a vendere l'immobile ad un prezzo superiore, perciò magari l'acquirente potenziale sul mercato ha accesso mutuo, cosa che in asta poi, come vedremo, è un pochino complesso, ma soprattutto non ha una vendita forzosa ad una determinata data. Questo ovviamente deve essere fatto con l'accordo del debitore, con l'accordo del creditore, ovviamente dalla banca, e normalmente accade sui mutui residenziali, perché normalmente c'è un debitore soltanto, perché è evidente che se i debitori sono vari, mettere d'accordo tutti non è così semplice. E poi normalmente il proprietario, nonché debitore, in questa situazione è aperto a provare una situazione di questo tipo quando ha ancora dell'equity da recuperare, evidente, perché se sa che l'immobile andrà in asta e sicuramente verrà deperito come valore, se il credito e il debito che lui ha è, diciamo così, inferiore rispetto al valore a cui probabilmente, al valore presunto di collocamento sul mercato, diciamo così, non distresta una parte di quel plusvalore, diciamo così, gli ritorna a lui, perciò è avvantaggiato in questo. A grado che poi in Italia, nel caso in cui il debitore, diciamo così, venga a aver venduto l'immobile tramite una procedura giudiziale e rimane una parte del debito ancora esistente, quello non ti mola mai, perché in tanti mercati, quando si chiude la vendita forzosa, poi si chiude la posizione, perciò anche in centrale rischi, uno viene sostanzialmente cancellato, in Italia quello è un debito che non, anche il debito sostanzialmente residuo rispetto al valore di realizzo dell'immobile e il valore nominale del debito rimanente, rimane sempre, te lo porti dietro sostanzialmente per tutta la vita, perciò non puoi più avere accesso al mondo del credit e quant'altro. Allora, tutto ciò premesso, vediamo un attimino, facciamo un po' due numeri, tanto per avere un overview del mercato. Allora, noi sappiamo che ad oggi il mercato degli NPL in Italia è di circa 160 miliardi di euro, crediti in sofferenza, non entriamo poi nell'analisi di mercato, perché è molto interessante, ma non è l'oggetto dell'argomento. Allora, 160 miliardi di euro di crediti in sofferenza, questi circa 40% sono secured, perciò hanno un sottostante immobiliare, teniamo anche in considerazione, perciò sono circa 60-70 miliardi di euro. Teniamo in considerazione che anche buona parte dei crediti unsecured si trasformeranno in crediti secured, perché sono i finanziamenti chirografari, ma guarda caso con la garanzia, il finanziamento dato per anticipo a fatture alla società, ma con la fiduzione dell'imprenditore, perché ha la casa, perché ha la proprietà dei muri e quant'altro. Perciò tanti di questi finanziamenti poi vengono trasformati in finanziamenti secure. Sono circa 70 miliardi di euro di crediti secure, perciò con sottostante immobiliare. In più ci sono anche i portafogli di non performing, che sono stati acquisiti dal 99 fino al 2006. Perciò anche quelli, pur non essendo più in mano alle banche, ma essendo in mano ai investitori istituzionali, anche quelli vanno a lavorare i crediti, e poi se non si trova un accordo stragiudiziale gli immobili vanno in asta. Largo circa, sono circa un'ottantina di miliardi, 80 miliardi. Normalmente, diciamo così, largo circa le posizioni, sono circa una media di circa 100 mila euro, perciò sono circa 800 mila aste. Mal contate. Ma quante aste ci sono all'anno in Italia? I dati non sono mai chiari, però nel 2013, aste dovrebbero essere nell'ordine di 60-70 mila aste, che sono circa il 50% in più degli altri anni. Perciò 60-70 mila aste, considerando che ce ne sarebbero, diciamo così, circa 800 mila, cosa comporta? Comporta che... C'è un arretrato. C'è un arretrato impressionante. che se gli immobili fossero assegnati in prima asta, cosa che non è assolutamente la situazione attuale in Italia, perché ad oggi in Italia, il 92% delle aste va deserto. Perciò l'assegnazione media degli immobili in asta avviene alla sesta asta. Perciò sesta asta significa un dispendio enorme di energie, di costi, di decurtazione del valore, poi del valore, non lo so, perché del valore, diciamo così, del valore che viene assegnato da parte del CTU. Ok? Perciò 60-70 mila aste all'anno sono sufficienti per andare, diciamo così, a ridurre pesantemente lo stock di Nonno Performing? No, assolutamente no. I numeri sono evidenti. Ma quello che mi chiedo è questo. Dove stanno le inefficienze? Stanno nelle procedure? Oppure stanno nel mercato finanziario perché chi compra in asta poi de facto compra con equiti perché è molto complesso accedere a un finanziamento quando si compra in asta? Oppure c'è anche, diciamo così, una situazione un po' da, se vuole scimmiette che chiudono gli occhi, da parte dei creditori? Allora, partiamo dalla parte relativa, diciamo così, alle procedure. Allora, tutti dicono che le procedure sono inefficienti, che sono farraginose, che sono complicate, formalismi e quant'altro. Io non ne sono così convinto perché secondo me il problema grosso non sta tanto nella procedura ma quanto nella perizia perché i valori che vengono dati dal CTU sono fortemente diversi rispetto poi al prezzo di assegnazione in asta. Noi come Italia Fondiario da un po' di tempo stiamo scambiando un po' di numeri per capire un po', diciamo così, dove va il mercato e i numeri sono devastanti perché i valori medi di riduzione, cioè di assegnazione del prezzo in asta dell'immobile rispetto al valore del CTU è circa, è poco più del 50% come medione totale. Poi è evidente che se si vanno a vedere le categorie d'uso degli immobili sottostanti i numeri sono, diciamo così, hanno uno scarto quadratico medio come si direbbe in statistica così molto alto perché gli immobili residenziali di media vengono valutati in eccesso per circa poco meno del 40% dal CTU rispetto al prezzo di vendita. Gli immobili commerciali siamo attorno al 55%, gli albervi un po' di più attorno al 60% e il disastro è ovviamente sugli immobili industriali. I capannoni non li vuole veramente nessuno e siamo circa all'85% perciò dei numeri devastanti, dei numeri devastanti che sono poi anche, diciamo così, differenziati rispetto alla dimensione e rispetto anche alla localizzazione che per esempio in Lombardia gli sconti sulla residenza sono inferiori. Però tutto ciò premesso e perciò andiamo a vedere ma allora è la procedura o è la valutazione iniziale? Perché è evidente che poi il giudice che cosa fa? Si affida a un CTU che dà un valore in base ovviamente alle richieste che fa il Tribunale e questo valore è assolutamente lontanissimo dal valore poi dal prezzo di assegnazione. Ma come mai? Perché secondo me poi vedendo anche la presentazione prima degli amici di REAG ecco quello che applicano i valutatori in un mondo diciamo così più istituzionale, più internazionale non viene applicato poi nelle valutazioni che vengono fatte poi a livello di CTU spessissimo i metodi di valutazione sono proprio sbagliati concettualmente perché a parte la residenza dove normalmente tutti quanti adottano il metodo comparativo appena c'è un immobile commerciale o un immobile o un immobile che non ha in costruzione la fantasia è sovrana autodromi valutati al costo di ricostruzione alberghi valutati al metro quadro cose che proprio non esistono da nessuna parte perciò dando dei numeri totalmente diversi rispetto a quello che il mercato poi è disposto a pagare inoltre poi ci sono anche tutta una serie di condizioni che che non vengono poi prese in considerazione nella CTU o comunque vengono prese in considerazione in maniera molto parziale allora quando si vende un immobile in asta quello non è un rogito quello è un decreto di assegnazione perciò l'immobile non è pronto per essere rivenduto perché non ha le caratteristiche ex legge 122 dove sostanzialmente lo stato di fatto è conforme ai dati catastali insomma alla planimetria catastale di conseguenza diciamo così i costi i costi poi che devono essere presi in considerazione da quando da quando si acquista l'immobile in asta a quando poi viene ricommercializzato rimesso a posto rimesso a norma e rivenduto ecco questi spessissimo non vengono presi in considerazione in più esiste anche il rischio questo purtroppo accade spesso che dalla valutazione del CTU a quando c'è l'assegnazione del bene nel frattempo si scatena una specie di giad dove l'immobile viene sostanzialmente devastato internamente da parte del debitore purtroppo questo è quello che in qualche caso avviene questo è un rischio che chi compra in asta conosce bene e di conseguenza lo sconta questo ovviamente non viene considerato da parte del CTU insomma tutta questa serie di diciamo così di di somme diciamo così di di questi elementi alla fine dal lato puramente immobiliare vanno vanno a deprimere fortemente il valore del prezzo ma probabilmente anzi sicuramente il prezzo più corretto è quello che viene in asta perché è una è una è una è una gara pubblica chiunque può partecipare basta che ci metti i soldi e di conseguenza quello è il vero incrocio tra la domanda e l'offerta ci possono essere ecco dei miglioramenti sicuramente da questo lato come procedura no che sostanzialmente è quella relativa all'asta telematica in tanti mercati l'asta telematica anche degli immobili è assolutamente molto diffusa in Italia un po' di esempi pochi che però stanno funzionando per esempio c'è il tribunale di Verbagna prima di venire qui ho scaricato dal tribunale di Verbagna qualche immobile che va in asta tramite asta telematica per esempio abbiamo un appartamento a Ornavasso che andrà in asta a metà maggio ecco la documentazione è stata fatta in inglese in francese in tedesco in russo e in cinese come? a Ornavasso ecco probabilmente i russi non investono in Ornavasso però diciamo così può essere un buon inizio e poi soprattutto diciamo così le modalità di partecipazione all'asta che sono tra l'altro previste dalla normativa perché è una normativa tra l'altro del 2010 della legge 24 del 2010 che ha permesso per agevolare facilitare e velocizzare i termini delle procedure la possibilità di utilizzare le aste telematiche allora perché anche gli altri tribunali non le utilizzano probabilmente un po' di arretrato viene verrà smaltito però secondo me ci sono altre problematiche perché tornando a quello che dicevo prima i tre punti insomma ovvero prima la procedura due diciamo così la liquidità di mercato e tre il comportamento del creditore io vedo tantissime posizioni che sono pronte per andare in asta ma non ci vanno ma come mai e tante posizioni che magari sono in asta hanno fatto due o tre aste e il creditore blocca la procedura e poi andiamo a vedere nei portafogli delle banche ci sono alcune banche che hanno il 70 l'80 per cento della lavorazione dei crediti in sofferenza che sono state interrotte hanno bloccato l'avvio atti perché la scusa è quella di dire che comunque sono le spese legali i costi legali e quant'altro poi andiamo in asta il valore viene depresso troppo la vera verità è che probabilmente il collaterale al finanziamento immobiliare non è corretto e questo è un problema perché non è un problema che le procedure non funzionano è un problema che i creditori non fanno l'avvio atti è anche un problema di inefficienza delle attività ed è per questo qua dichiaro il mio conflitto ed è per questo c'è una cosa che servono delle strutture specializzate noi abbiamo un team di quattro persone che è specializzato nei cosiddetti cash in court perciò nei ricavi d'asta ovvero sono quattro persone che vanno a recuperare nei tribunali le somme giacenti dal decreto di trasferimento a quando vengono effettivamente distribuite ovvero quando l'immobile viene venduto il compratore paga il tribunale e poi non è che il tribunale il giorno dopo gira i soldi al creditore da lì poi parte tutto un cinema che per quanto riguarda il credito fondiario è abbastanza veloce diciamo così in due o tre mesi si riescono a recuperare i soldi ma con le procedure concorsuali soprattutto se sono parziali passano anni anni e ogni tanto non è che diciamo così i creditori diciamo così istituzionali siano così efficienti è stato veramente simpatico qualche giorno fa perché qui abbiamo una lettera del tribunale civile di Roma quarta sezione civile della quarta sezione è il presidente del consiglio è il presidente della quarta sezione civile che scrive l'ordine degli avvocati di Roma intanto sono tre rive perciò illustre il presidente da un controllo da me predisposto è il risultato che moltissime somme di denaro di pertinenza dei creditori delle procedure esecutive immobiliari dell'ufficio oggetto dei relativi mandati di dipagamento giacciono sui conti correnti delle unicredite SPA e non vengono tempestivamente ritirate cioè i soldi sono indisponibili sono nel tribunale mi diceva che a Roma sono circa 20 milioni e i creditori non li vanno a prendere che è una roba un po' peculiare il totale delle somme per le quali è stato ordinato il pagamento ed è messo il mandato da almeno sei mesi è gentissimo e tali somme come è noto sono destinate alla scadenza dei termini di legge al fondo unico di giustizia perciò queste per la maggior parte siamo andati a vedere e sono banche sono gli avvocati delle banche che si dimenticano poi di sostanzialmente andare poi a avvertire poi comunque per andare a recuperare i soldi a prego perciò pur rendendomi conto delle difficoltà consenso il numero di difensori interessati di sollecitare gli avvocati iscritti a codesto ordine al fine di ottenere che i creditori pervengano effettivamente le somme loro assegnate perciò questo è un chiaro esempio anche dell'inefficienza non tanto delle procedure ma anche poi di chi sta da altra parte del tavolo e poi anche come ultimo punto di riflessione riguarda diciamo così la parte finanziaria di chi partecipa alle aste ovvero ad oggi chi partecipa alle aste partecipa a full equity perché con grandissima difficoltà può partecipare ad un'asta con un finanziamento bancario e purtroppo ancora la possibilità di accollare il debito in asta 508 del codice di procedura civile viene applicato in maniera ancora molto molto marginale e di conseguenza la scarsa la scarsa liquidità che è tuttora presente sul mercato non permette diciamo così di avere un numero più elevato di compratori in asta di